un cordiale saluto a tutti amici da stefano ghetti si sta lentamente spostando verso levante la perturbazione che ha interessato la nostra regione le nostre zone il tempo rimarrà ancora un po' incerto per le prossime 24 ore ma soprattutto da mercoledì l'alta pressione tornerà protagonista un'alta pressione per alto di matrice subtropicale di nuovo l'anticiclone africano che riporterà oltre che tempo stabile anche temperature in generale aumento diciamo che abbiamo sta per verificarsi un'altra ondata di caldo anche se non sarà un'ondata di caldo così importante come le precedenti torneremo ad avere temperature ben superiori alla media del periodo però probabilmente non durerà più di tanto 3-4 giorni poi il tempo dovrebbe di nuovo un po' guastarsi e soprattutto le temperature di nuovo diminuire e ritornare su valori più consone alla stagione intanto occupiamoci del tempo previsto abbiamo detto questa perturbazione si sta spostando ma la situazione meteorologica rimane ancora un po' incerta soprattutto sulle aree appenniniche sulla fascia più orientale un miglioramento un pochino più deciso si potrà cominciare ad apprezzare soprattutto in serata le temperature dovrebbero cominciare a guadagnare qualche punticino e poi come abbiamo detto da mercoledì situazione meteorologica che torna piuttosto stabile con temperature in generale aumento mi fermo qui amici grazie per essere stati con noi a più tardi